Salve a tutti e benvenuti alla quattordicesima lezione del corso QG per l'ingegneria idraulica. In questa lezione andremo a vedere come è possibile calcolare l'afflusso meteorico all'interno del bacino. L'afflusso meteorico rappresenta, dato un intervallo di tempo assegnato, nel nostro caso l'anno, la quantità di pioggia che affluisce al bacino. Nella precedente lezione abbiamo visto come è determinata la distribuzione della precipitazione annua all'interno di un bacino, a partire da un numero di misure effettuate all'interno di stazioni pluviometriche situate all'interno del bacino o in prossimità dello stesso, che sono queste riportate in arancione. L'ipotesi di partenza utile per la determinazione dell'afflusso meteorico è questa. Praticamente si ipotizza che la quantità di precipitazione che interessa il bacino è uguale a quella raccolta dalla sua proiezione orizzontale. Questo aspetto è essenziale, in quanto la componente del vento potrebbe alterare in eccesso o in difetto questo risultato. Il solido è caratterizzato da una base pari alla proiezione ortogonale del bacino e, come altezza, punto per punto, è caratterizzato dal valore della precipitazione caduta in un determinato intervallo. Una porzione del solido di pioggia è stata rappresentata nella figura sottostante, a partire fondamentalmente dall'andamento delle nostre isogliette. Per calcolare questo solido di pioggia dobbiamo andare a determinare il volume medio compreso tra due curve isogliette successive. Ad esempio, nel primo caso, dobbiamo fare 935,4 più 920 diviso 2, per fare la media di queste altezze, e poi semplicemente moltiplicare per quest'area. Successivamente, invece, dobbiamo andare a sommare il contributo del volume caduto all'interno di quest'area, che è dato dall'altezza media, quindi 920 più 900 diviso 2, per l'area compresa all'interno di questa sezione. Successivamente, andiamo a effettuare la somma in questa sezione. Successivamente in questa. La somma di tutti i contributi dà luogo al solido di pioggia, che rappresenta appunto l'afflusso meteorico precipitato all'interno del bacino. Per calcolare l'area compresa tra due isogliette successive e anche il valore della precipitazione delle due isogliette che comprendono quest'area, utilizziamo la funzione r.report. selezioniamo il nostro file interpolazione bacino determinata nella lezione precedente come unità di misura mettiamo chilometri andiamo direttamente su elimina intestazione pagina e successivamente andiamo a salvare lo chiamiamo report e andiamo ad eseguire chiudiamo e andiamo a leggere il file Il seguente file riporta il valore dell'isoglietta e dell'isoglietta successiva e il valore dell'aria espresso in chilometri compreso tra questi due isogliette Per calcolare il valore dell'afflusso meteorico andiamo a utilizzare la console di python accediamo cancelliamo e apriamo un nuovo editor io per semplicità inizio già a incollare la funzione e andiamo a contestualizzarla insieme innanzitutto apriamo la libreria numpy e pandas inizializziamo un vettore vuoto carichiamo il file appunto nella directory report per determinare questa directory dobbiamo semplicemente andare sulla cartella in cui abbiamo salvato il file cliccare all'esterno delle scritte e comparirà la directory facciamo copia andiamo ad incollare e successivamente digitiamo slash e il nome del file seguito dall'estensione del file successivamente andiamo ad eliminare le prime quattro righe che comprendono i caratteri testuali e anche gli ultimi quattro infine andiamo a ripulire il file in maniera tale da avere soltanto i valori delle quote e i valori delle aree comprese tra le due quote con questo insieme di string trasformiamo i valori che sono riportati sotto forma di lista i numeri attraverso la funzione float successivamente andiamo a salvare tre matrici differenti una che riporta le quote precedenti una che riporta le quote successive una che riporta le aree e infine andiamo a calcolare il volume complessivo inizializziamo innanzitutto la matrice dei volumi eiesimo cioè il volume compreso tra le generiche curve isoiette come una matrice vuota impostiamo il contatore uguale a zero while finché il contatore è minore della lunghezza della matrice iniziale che abbiamo salvato devi calcolare fondamentalmente questo valore che rappresenta la media della precipitazione così come abbiamo visto in precedenza cioè la somma della quota successiva più la quota precedente diviso 2 e moltiplichiamo il risultato per 0.001 per riportarlo in metri e moltiplichiamo per l'area corrispondente per un milione in maniera tale da riportare il risultato da chilometri quadrati in metri quadrati il risultato finale sarà ovviamente in metri cubi a questo punto tramite la funzione append inseriamo questo risultato nel generico ciclo alla fine della matrice nel primo caso andremo semplicemente a inserire questo risultato come primo valore di questa matrice ciclando la seconda volta andremo ad inserire il secondo valore ciclando la terza andremo ad inserire il quarto e così via infine il volume complessivo è dato dalla somma dei generici volumi compresi tra le generiche curve isoiette e andiamo infine a stampare il risultato avviamo questo è il risultato finale cioè nel generico anno è caduto un volume di precipitazione pari a circa 250 milioni di metri cubi in un anno c'è da fare una premessa innanzitutto quest'anno è particolarmente piovoso se ipotizziamo fondamentalmente che l'altezza media registrata all'interno delle stazioni pluviometriche in Sardegna è di circa 400 mm mentre nel nostro bacino abbiamo osservato anche punte di 900 mm registrati in una stazione pluviometrica possiamo osservare appunto la piovosità di quest'anno quindi questo procedimento può essere rapidamente eseguito utilizzando QGIS per oggi è tutto se la lezione è stata di vostro gradimento vi invito a iscrivervi al canale a mettere un mi piace o a commentare se avete particolari criticità con lo svolgimento di questo procedimento arrivederci e buona serata grazie a tutti